ciao vi piacerebbe avere un contorno di verdure biologiche fresco e gustoso sempre disponibile con la battitore life è possibile oggi prepareremo una gustosissima ratatouille ma prima di iniziare vi mostro subito il risultato finale vedrete che comodità avere nel freezer un contorno pronto sul gelato con life vado subito a prenderlo guardate che semplicità prendo il mio piatto e verso il contenuto della vaschetta all'interno e poi andrò a rigenerarlo nel forno ventilato per 15 minuti a 170 gradi la nostra ratatouille è pronta guardate che meraviglia proprio come se l'avessi appena fatta immaginatevi quanto tempo ho potuto risparmiare ora vi mostro come l'ho preparata 350 g di zucchine 200 g di carote 250 g di pomodoro 250 g di melanzana 250 g di peperone un ciuffetto di prezzemolo e adesso mescolo il tutto 50 g di dado vegetale life che ho preparato io in casa e che ho sciolto con un pochino di acqua e per finire un goccio d'olio bene il forno è caldo e cuocio le verdure a 180 gradi per 15 minuti ecco ora la cottura è conclusa e dividiamo il tutto in quattro vaschette di alluminio proprio come quelle che avete a casa abitualmente sorgelo ora le verdure con l'abbattitore life quando sono ancora bollenti solo così riuscirò a mantenere intatti i colori i principi nutritivi e le vitamine eccoci la surgelazione è completata e ora non mi resta che andare a mettere il coperchio alle mie vaschette e conservarle in freezer le verdure a casa mia saranno sempre disponibili ogni volta che ne avrò voglia ci vediamo alla prossima ricetta ciao 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 ciao